Punto di rottura, l'informazione che spacca con Rush. Bentornati ad una nuova puntata di Punto di rottura. Insieme a me buon pranzo se state preparando le vostre pietanze che siete quasi pronti per mettervi a tavola oppure se ovviamente ci state seguendo in seconda serata sul canale 14 di Radio Roma Television. Parte questa nuova puntata, lo sapete che ogni giorno con questa informazione che spacca vado a darvi un po' di curiosità su quello che poi realmente viviamo nel nostro paese e poi qualcosa che può essere comunque così un po' tranquillo, dispensieratezza, qualcosa che secondo me serve anche un po' per vivere la nostra vita. Io lo sapete che sono molto leggero sotto questo punto di vista però mi lego alla parte del popolo, quelle persone che come voi ogni giorno magari prendono la macchina e si spostano e vanno al lavoro. A proposito di macchine parleremo sicuramente oggi del nuovo codice della strada che è stato approvato quindi entrerà in vigore, capiremo che ci sono e ci saranno un bel po' di modifiche, fate bene attenzione, tanto è notizia del giorno quindi praticamente qualsiasi post anche sui social network parla proprio di questo nuovo codice della strada, multe salatissime, lo sapete poi come funziona e sicuramente sarà argomento del giorno, poi ce ne saranno altri se facciamo in tempo perché io chiacchiero è un casino, non vi voglio spoilerare mai nulla però apro solo una piccola parentesi, non so quanti di voi questa mattina hanno avuto il coraggio di mettere la benzina. Allora a me è arrivato un post, ne ho parlato in diretta su Radio Roma nel mio programma Breaking Bad nel morning dalle 7 alle 10 alla che mi trovate e ho parlato proprio del fatto che mi era arrivato un post dove legato anche al nuovo codice della strada in questo post citava non prendere tipo in giro i ciclisti perché potresti essere uno di loro molto presto. Ringrazio gli ascoltatori che saranno sempre presenti e poi ci seguono anche qua in tv ed effettivamente hanno ragione perché ci sono anche delle nuove tematiche nuovi cambiamenti per i ciclisti sul nuovo codice della strada ma ragazzi questa benzina, questo carburante sta arrivando alle stelle qui ci stanno praticamente rimbambendo su altri titoli tematiche del giorno e i migranti di qua e i migranti di là e il nuovo codice della strada ma zitti 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 piano 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 come diceva Totò quattro 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 arrivano a farci sborsare un sacco di soldi e nessuno se ne rende conto, ci avete fatto caso che nessuno sta parlando di questo aumento della benzina a me viene da ridere perché parliamo di tutto quello che gira nel globo e il terremoto ma nessuno sta parlando dell'aumento della benzina io prima di aprire ovviamente il programma devo fare questo piccolo accenno questo piccolo, questa piccola, ci metto l'apostrofo su questa cosa è incredibile, anche il self service è arrivato a quasi 2 euro e parlo del diesel, la benzina ha proprio superato se poi vuoi il lumino che te lo mette allora lasciagli il conto in banca comunque solo per farvi arrivare questa cosa non fatemi distrarre da tutte le altre informazioni che sono ovviamente molto importanti, ci mancherebbe ma diamo il giusto valore e la giusta importanza anche al nostro bel portafogli quindi credo che sia arrivato il momento di fare qualcosa perché pagare un carburante 2 euro mi sembra abbastanza troppo allora, a proposito di carburante, mi voglio orgare i ciclisti ci abbiamo un attimo un sorriso, non me ne vogliate ovviamente raga spostiamoci un attimo al nuovo codice della strada allora, nuovo codice della strada, ve lo facciamo vedere da un bellissimo articolo di un nostro collega giornalista Giacomo nuovo codice della strada, cosa cambia? trovate, già vi dico, quest'articolo sul sito di radiorova.it dove ci sono tantissime altre informazioni anche grazie a tutti i nostri colleghi che lavorano in maniera egregia e poi ci sono io che sparo un sacco di cose così a volte anche cioffeghiete però, il Consiglio dei Ministri ha dato quindi il via libera a tutte queste modifiche che sono stra-importanti per quanto riguarda il codice della strada lo sapete che io ho spesso, diciamo anche volentieri parlato proprio del codice della strada appena istituito, appena si cominciava un po' a parlare grazie all'onorevole Maurizio Politi che ringrazio, oggi non è potuto essere con noi quindi proprio perché stanno analizzando stanno lavorando tantissimo sul nuovo codice della strada quindi lo ringrazio a prescindere ma queste nuove misure che sono state proprio approvate ieri il 18 di settembre mirano sicuramente a dare una bella sistemata a un bel po' di problemi che sicuramente noi abbiamo in questa città proprio ieri con il consigliere Emanuele Licopodio che ringrazio di Roma 6 abbiamo accennato dei disagi che ovviamente ci sono a volte nelle borgate e all'ultimo, lo sapete tutti, abbiamo parlato velocemente del ragazzo di 13 anni che poi è stato investito queste norme servono anche a ciò servono sicuramente a spaventare tantissime persone che ad oggi si mettono alla guida e lo fanno o senza patente perché hanno poco timore di rischiare magari qualsiasi cosa non lo so, magari è folle pensare questo ma spesso e volentieri io credo che ci sia proprio una disattenzione su questo è come se non abbiamo paura di quello che può accadere ci avete mai fatto caso che spesso e volentieri leggiamo dei titoli e uno fa com'è possibile? cioè com'è possibile che uno ha investito uno ha ucciso uno era ubriaco e si è messo alla guida uno ha fatto una strage perché guidava senza patente dico com'è possibile questa cosa? sì, leggiamo questi titoli e sicuramente questo è un mio punto di vista sapete che punto di rottura no? è un po' l'informazione che spacca c'è il mio modo di pensare c'è il vostro modo di pensare che ovviamente apro parentesi e la chiudo velocemente il nostro numero lo conoscete potete mandarci messaggi in diretta li leggiamo o ci ragioniamo e poi li riportiamo anche domani a una nuova puntata comunque siete parte e protagonisti del mio programma detto questo a volte leggiamo questi titoli che che fanno pensare diciamo è possibile questa cosa? è possibile perché secondo me nessuno picchia dici come picchia? sei matto? sei matto? no, non sono matto nessuno picchia come quanto realmente potrebbero picchiare adesso? partiamo da mutte elevate per l'uso del cellulare alle guida allora quanti di voi quindi alzo la mano perché non sono un ipocrita purtroppo anch'io ho utilizzato il telefono il mic purtroppo non sono ipocrita dico la verità però è un po' di tempo che lo lascio proprio cioè lo mollo lì il telefono grazie ovviamente ai dispositivi sempre più tecnologici che poi le autovetture magari ci mettono a disposizione possiamo ovviare a delle stragi si parla di telefono cellulare sia in modalità viva voce perché molte pensano che con il viva voce si può parlare non è così cioè se non hai viva voce auricolari quindi se non è gestito bene perché quando dico viva voce non si può parlare che se però di idiozia ma non so quanti di voi fanno questa cosa magari prendono il telefono cellulare in mano mettono il via voce e guidano col telefono in mano col via voce e non è così che funziona così la multa arriva lo stesso cioè se vi beccano adesso capiremo anche a quanto sono arrivate la multa ve la fanno però succede che il nostro inconscio la nostra mente non so che cosa scatta nella nostra testa ma veramente cioè scagliate la prima pietra se anche voi non avete messo il via voce non avete guidato magari così parlando così è da idioti passatemi il termine però lo si fa quindi bisogna veramente fare attenzione ma spesso e volentieri siamo distratti alla guida e questa distrazione porta ad inchiodate a sterzate brusche porta ad incidenti e se vogliamo andare a cercare a capire prendo anche il dispositivo per cercare di capire a quanto realmente poi sono arrivate queste multe che variavano dai 165 euro fino ai 6,60 come potete leggere ad oggi invece partono dai 422 euro fino ai 1697 euro ma le novità non finiscono qui perché come scrive il nostro Giacomo giornalista anche molto bene dalla prima violazione della sospensione della patente sarà applicata per un periodo di 15 giorni fino a due mesi e in caso di recidiva questa cosa di recidiva è costante per tutto il nuovo codice della strada per qualsiasi cosa trovate questa parola recidiva quindi una persona che ha già fatto questa violazione e entro due anni della prima violazione si applicherà una multa che potrà variare dai 6,44 fino ai 2588 euro più ovviamente decurtazione dei punti 10 in questo caso che si sommano agli 8 punti della prima violazione sono 18 avete ben capito? quindi questa parola recidiva è molto utilizzata nel nuovo codice della strada anche se vi beccano per esempio che avete bevuto oppure che avete sostato magari in passatemi il termine in sosta vietata o vi siete posteggiati nella sosta riservata ai disabili anche qui ci sono parecchie novità aumento delle sanzioni per il parcheggio in zone vietate lo vedete qua le multe aumentano da 80 ai 328 fino ai 165-660 di adesso e ripeto multe che aumentano anche se vi posteggiate proprio nel posto disabili questa è una cosa che spesso fa rosicare me personalmente perché non capisco per quale motivo le persone debbano occupare un posto che non gli spetta e c'è una cosa che a me fa veramente arrabbiare ne ho parlato anche stamattina in diretta radio quando si va nei centri commerciali e trovi furbo di turno che non trova parcheggio perché il centro commerciale è strapieno e dov'è che si ferma? si ferma sul posto disabili senza tagliandino occupando un posto che per un'altra persona che magari ha realmente bisogno che ha un tagliandino regolarmente regolarmente esposto quindi queste cose per esempio a me mandano fuori di testa e sono il tipo di persona che alza la mano e fa scusi lei non ci può parcheggiare lo so sono magari un po' fastidioso ma lo ammetto e qui sono d'accordo quindi aumentare le multe sotto questo punto di vista sono d'accordo ci sono altre novità c'è l'alcoloc ne abbiamo parlato spesso di alcoloc ma ci fermiamo un secondo piccola pausa continuate un po' a sbucciare la cipolla visto se state preparando magari la cena oppure a gustarvi un buon de se prima di cenare o dopo dipende dalla replica io vi fermo un secondo caffè e torniamo tra pochissimo con punto di rottura punto di rottura l'informazione che spacca con Rush punto di rottura l'informazione che spacca con Rush torniamo per questa nostra seconda parte di punto di rottura se mi siete persi ve lo ricordo perché sono un bravo ragazzo sono un bravo ragazzo un po' fuori di testa ricordate questa no comunque a proposito di radio nella prima parte abbiamo parlato del nuovo codice della strada anche se ho fatto un piccolo cappello legato al carburante perché continua a dire che secondo me è arrivato alle stelle e nessuno sta facendo nulla più che altro ci stanno distraendo abbastanza ma visto che viva l'informazione fatta in un determinato modo soprattutto quella del popolo e io qua sono per quello perché la benzina e il carburante lo metto anch'io e devo dire che mi pesa e quindi sicuramente peserà anche a molte persone che sono dall'altra parte non dimentichiamoci che ci stanno a Roma si dice legnando anche sotto questo punto di vista quindi continuiamo però ad aprire gli occhi nuovo codice della strada abbiamo cominciato a capire generalmente le novità che poi si presteranno ad entrare proprio in vigore e aggiungo se vi siete persi la prima parte non vi preoccupate perché poi ci sarà sia la replica durante la giornata lo capirete all'interno del nostro palizziesto ma soprattutto c'è ovviamente il podcast della puntata su Radio Roma.it il nostro sito di informazione di attualità e non solo dove potete trovare praticamente di tutto anche gli articoli correlati come quello che abbiamo preso in visione oggi appunto di rottura fatto dal nostro Giacomo uno dei giornalisti che lavora con noi che ha parlato proprio del nuovo codice della strada allora novità sicuramente abbiamo capito che per i recidivi le persone che comunque hanno già sbagliato più di una volta sono guai le multe sono raddoppiate anche per i posti disabili ma ci sono anche novità per questo Alcoloc l'Alcoloc che sta spaventando tantissime persone perché uno dice come è possibile i dispositivi ragazzi è molto semplice l'Alcoloc sarà un dispositivo che verrà installato all'interno dell'autovettura ed impedisce la guida se il tasso alcolemico supera il limite consentito per legge zero punto in teoria e questo è importante ma io sono d'accordo cioè se bevi l'auto non la devi prendere non la prendere io non so quanti di voi frequentano un po' il centro storico della capitale magari zona trastevere queste zone così devo dire che ultimamente e mi fa piacere vedere ciò anche se spaventa molti ragazzi molte famiglie sto vedendo tanti posti di blocco nella zona del centro ma veramente molti con l'alcol test questo perché perché stanno cercando di legnare le persone che bevono e si mettono alla guida basta poco vai a cena fuori è normale che ti fai un bicchiere di vino ma devi bere responsabilmente non puoi metterti alla guida se ti senti ubriaco se hai bevuto troppo cioè sembro il maestrino di turno come se io non facessi una cosa del genere certo anch'io bevo anch'io mi diverto però veramente prima di salire in macchina ci penso dieci volte uno perché ti tolgono la patente punto c'è l'ergastolo anche della patente poi cercheremo di capire se ti beccano più di una volta se sei fuoco non te la danno più la patente la stracciano la tagliano perché ormai non è più di carta ma ritorno sul fatto che sono contento di vedere tutti questi posti di blocco perché fondamentalmente almeno per le persone che poi se lo meritano che bevono troppo e poi causano incidenti ci sia uno stop definitivo ovvio che secondo me andrebbero un po' alzati però i livelli alcolemici questo perché perché a volte anche magari un semplice bicchiere di vino so magari uno shot un amaro potrebbero creare difficoltà e soprattutto secondo me bisognerebbe cercare di capire anche chi sia davanti il nostro corpo il corpo umano questo è un mio pensiero poi magari per voi è una stupidaggine però il corpo umano recepisce l'alcol in maniera diversa cioè molte persone magari bevono un bicchiere di vino e vanno fuori di testa cioè il corpo umano praticamente assorbe questo vino assorbe l'alcol e ti schizza subito con un tasso alcolemico altissimo come se tu fossi già ubriaco altre persone invece hanno bisogno magari del secondo bicchiere quindi con un bicchiere di vino magari sono in grado adesso vi faccio un esempio banale del bicchiere di vino non è che vi fermano con un bicchiere di vino ci mancherebbe ma per farvi capire che magari con lo stesso quantitativo di alcol altre persone riescono tranquillamente a guidare ad andare a casa a camminare questo perché perché il corpo reagisce in maniera diversa siamo tutti diversi quindi so che è impossibile magari stare lì e cercare di capirlo mea culpa per le forze dell'ordine che sicuramente non è così semplice così facile però forse qualcosa dovremmo fare sotto questo punto di vista perché a volte vengono tolte delle patenti a delle persone che stavano bene stavano molto bene però l'alcol test gli dava quel quel grado in più e gliel'hanno tolta poi ho letto e ho visto un video test quindi fate attenzione però svanisce subito non so se avete mai provato ma se vi sciacquate i denti e utilizzate il colluttorio non è una stupidaggia colluttore alcol quindi usate il colluttorio vi lavate i denti e fate un test subito dopo risultate praticamente che avete bevuto chissà quanto e vi suona rosso quindi hanno fatto questo test subito dopo ovviamente le particelle si diciamo evaporano quindi poi si perdono quindi non ci sono problemi ma hanno fatto questo test quindi cosa vuol dire vuol dire che magari se prendete qualcosa con alcol e salite in macchina vi lavate i denti andate di corsa vi faccio questo esempio andate di corsa vi lavate i denti vi mettete il colluttore oppure avete il colluttore in macchina perché siete amanti dell'igiene fate attenzione perché magari poi vi fermano è probabile che dovete ripetere il test perché risultate anche positivi all'alcol quindi a questo punto è un piccola curiosità che vi do ma questo video che ho peracitato lo trovate anche su qualsiasi tipo di social lo trovate praticamente dappertutto tornando a parlare dell'alcoloc si vi bloccano la macchina è un dispositivo che verrà installato stanno cercando di capire più che altro come dovete praticamente soffiare cioè viene infilato questa cosa per capire se voi potete guidare viene inserito come leggete in questo momento nel vano motore lo facciamo rivedere alla regia Matteo Grazie vedete dispositivo che registra il tasso alcolemico del guidatore di un veicolo a motore il guidatore si sottopone al test obbligatoriamente soffiando nel dispositivo se viene superato un certo limite di concentrazione di alcol la macchina non si mette in moto quindi se arriva questo diciamo questo livello alto non si accende l'autovettura molto semplice sì dove c'è la legge c'è l'inganno tanto l'abbiamo capito come siamo fatti noi ma ci stiamo auto ingannando uno perché se ti beccano poi ti rovinano e due soprattutto perché ti potresti far male tu ma soprattutto potresti far male a delle persone che in quel momento sono tranquillamente a passeggio stanno tornando a casa quindi fate veramente attenzione su questo e voglio concludere poi magari vedremo se nelle prossime puntate avremo anche modo di riospitare l'onorevole Maurizio Politi che ci potrà sicuramente spiegare meglio il nuovo codice della strada ma voglio un po' concludere questo argomento con gli autovelox gli autovelox che sono sempre stati cassa di alcuni tipi di comuni o di città molti hanno fatto cause molti hanno fatto denunce questo perché perché sono arrivati a volte a delle cifre esorbitanti ci sono comuni che hanno guadagnato tantissimi soldi grazie agli autovelox installati messi un po' così che si vedono che non si vedono beh ad oggi è arrivata anche la stretta sugli autovelox che vengono installati dai comuni quindi anche in diciamo questo paragrafo è stato analizzato bene per tutti i guidatori quindi se è vero che comunque noi da quest'altra parte avremo dei problemi legati al non lo so all'alcol al telefonino in macchina ai divieti di sosta e le multe sono davvero esagerate forse quella del divieto di sosta forse un po' troppo perché arrivare fino a mille mille e due mille e cinquecento euro per un divieto di sosta mi sembra eccessivo a attenzione fate fate ripeto attenzione anche a sostare per esempio sulla piazzola degli autobus sulle fermate degli autobus perché possono farvi la multa ovviamente anche gli automobilisti ma anche gli autisti dei mezzi e anche lì rischiato ovviamente il multone doppio quindi anche questo è importante e dicevo secondo me la multa lì è un po' troppo elevata però se serve a dare una sistemata una controllata a tutti vuol dire che saremo molto più eligi lo saremo punto di domanda questo non lo so spero perché ovviamente questo codice sicuramente darà una bella svegliata e ripeto questa cosa degli autovelox invece è una cosa che va a nostro favore perché in tantissime zone della città in tantissimi piccoli comuni frazioni ci sono tanti autovelox che multano troppo e la velocità secondo me è troppo bassa soprattutto in alcuni punti autostradali però questo qui ovviamente non riguarda magari i comuni le piccole frazioni le piccole le cittadine lì dovranno ovviamente fare attenzione perché altrimenti tutti questi autovelox che vengono e venivano usati per fare cassa come leggete magari anche in quest'articolo saranno comunque sistemati quindi saranno ben controllati faranno in modo tale da non dover pesare sulle tasche degli italiani che magari vivono in zona tornano a casa oltre che pagare 2 euro la benzina e anche il visel il carburante mediamente ad oggi devono anche mettere mano al portafogli e pagarsi le sanzioni dovute da un autovelox che magari è messo un po' così quindi questa potrebbe essere giusto una cosa buona chiudiamo a cappello come abbiamo aperto con il prezzo della benzina che sale ai 2 euro se usate le autostrade mi dispiace per voi vi abbraccio virtualmente ci provo perché il prezzo della benzina del carburante è veramente alle stelle ma la cosa brutta è che anche qui dietro l'angolo il prezzo è veramente alle stelle bisogna dirlo quindi un grande bocca al lupo a tutti cerchiamo di non chiudere i nostri occhi perché è vero che c'è tanta informazione in giro il terremoto ci sta tutto ci mancherebbe siamo noi primi a fare informazioni i migranti i ladri qualsiasi cosa è comune ma non distogliamo l'attenzione sul fatto che la benzina il diesel o il carburante che sia sta veramente salendo alle stelle chiudiamo con questa perla mi raccomando occhio buttateci un'occhiata ah esistono delle app per capire se ci sono distributori di benzina che costano di meno quindi cercate le trovate è molto semplice anche cliccando su google io me ne devo andare vado a pranzo anch'io l'appuntamento con Punto di Rottura torna domani stesso orario dalle 12 sul canale 14 di Radio Roma Television in replica basta rimanere sul canale ma poi lo capirete dal palinzesto grazie davvero a tutti grazie anche alla regia di Matteo che non sbaglia un colpo l'appuntamento con me torna domani ciao punto di rottura l'informazione che spacca con Rush grazie a tutti